Tutti i colori della matematica. Il nuovo corso di matematica di Petrini per la scuola secondaria di secondo grado, edizione blu ed edizione verde per il primo biennio. Tutti i colori della matematica è un corso orientato alla modellizzazione, al problem solving, ai collegamenti con la realtà e con l'educazione civica e concorre alla costruzione delle competenze proprie delle discipline STEM. I percorsi di educazione civica sono articolati in cinque temi. Ambiente e sostenibilità, educazione finanziaria, informazione consapevole, salute e prevenzione, sicurezza. Per utilizzare la matematica in contesti reali e collegati alla cittadinanza attiva. Ogni volume è suddiviso in temi, composti da unità, articolate in teoria ed esercizioni e esercizi. La teoria è rigorosa, ordinata e ben scandita in definizioni, regole, esempi, schemi, tabelle e sintesi. Sono presenti molte rubriche. Esempio breve, fisse il concetto e applica il concetto, esempi per focalizzare e collegare con la realtà gli argomenti esposti. Problema e problema svolto per orientare l'approccio della disciplina al problem solving. Per saperne di più, per proporre un secondo livello di lettura adatto a riflessioni critiche e approfondimenti. Le schede su metodo di studio e problem solving insegnano come studiare matematica in modo efficace. La teoria di ciascuna unità si conclude con un percorso delle idee per l'inclusione. Nell'edizione blu e nell'edizione verde, gli esercizi, sia quelli tradizionali sia quelli più innovativi, sono tutti finalizzati allo sviluppo delle competenze. Calcolare e applicare, rappresentare e interpretare grafici e dati, risolvere problemi e costruire modelli, argomentare e dimostrare. Sono molti e di varie tipologie, per esempio matematica e, attività ed esplorazioni con geogebra, realtà e modelli. L'edizione blu è caratterizzata dal percorso di matematica e fisica, evidenziato graficamente e articolato in esercizi e problemi per allenare progressivamente al collegamento tra le due discipline. A fine tema ci sono esercizi orientati alle competenze, altri estratti dalle gare di matematica e altri ancora per allenarsi alla prova in valsi. I compiti di realtà sono attività articolate e collegate all'educazione civica e alle altre discipline STEM. La rubrica Solve Maths in English propone una raccolta di esercizi in lingua inglese per le attività di CLIL. I quaderni di inclusione e recupero sono scritti in font ad alta leggibilità, organizzati in lezioni visuali seguite da esercizi per raggiungere le competenze di base. Un importante corredo di risorse e strumenti digitali affianca e arricchisce il libro cartaceo. Tutti i colori della matematica offre tanti strumenti per la personalizzazione della didattica e risorse digitali direttamente accessibili dall'ebook e dal sito del libro, quali video di Elia Bombardelli, video interattivi, attività ed esplorazioni con GeoGebra, figure animate, esercizi interattivi, approfondimenti, schede di matematica nella realtà e di matematica nella storia, lezioni digitali. Il corso si inserisce all'interno di un sistema integrato di risorse digitali pensate per supportare il docente nella sua attività didattica quotidiana in classe e a casa. Un sistema facile e immediato che promuove una didattica inclusiva e collaborativa costruita sulle esigenze di studentesse e studenti. DeaFlix, la nuova risorsa di DeaScuola dedicata a studenti e docenti, propone un modo nuovo di apprendere gli argomenti fondamentali della matematica, grazie a 26 playlist che aiutano a imparare la disciplina, argomento per argomento, grazie a un percorso costituito dalle due tipologie di video, teoria ed esercizio svolto, che sono intervallati da esercizi autocorrettivi, mettiti alla prova, e conclusi da una prova finale, test di verifica. Zona matematica, il ricchissimo portale dedicato ai docenti con lezioni digitali, compiti di realtà, video, attività laboratoriali, attività con GeoGebra e una sezione dedicata all'esame di Stato con guida ai metodi risolutivi, simulazioni, video svolgimenti, proposte per l'elaborato e per il colloquio orale e molto altro. Percorso in Valsi, la palestra online con le simulazioni autocorrettive per esercitarsi e costruire le competenze necessarie per risolvere le prove nazionali. Il sito del libro, con tutte le risorse disponibili per personalizzare la lezione. Verimat, che da quest'anno diventa Plus, con verifiche interattive autocorrettive, un database per il docente con migliaia di esercizi personalizzabili ed esportabili in Word o PDF, condivisibili in qualsiasi piattaforma educational per rendere più efficiente la didattica di ogni giorno. DeaLive, il blog con articoli e spunti da portare in classe, approfondimenti di esperti e formatori. L'app DeaLink permette di accedere con smartphone e tablet ai contenuti multimediali del libro. Basta inquadrare la pagina del manuale per attivare i video e ascoltare gli audio. Con tutti i colori della matematica, si accede anche a contenuti e percorsi didattici legati ad alcune delle tematiche oggi più sentite a scuola. Giovani cittadine e cittadini, un sito in continua evoluzione con percorsi tematici sui principali temi dell'educazione civica, presentati in modo operativo e interdisciplinare. Per l'insegnante è disponibile una guida con indicazioni didattiche e metodologiche, materiali per l'accoglienza, esplorazioni in GeoGebra, verifiche, simulazioni di prova in valsi, compiti di realtà, attività STEM e attività TIL. Inoltre, Easy eBook Docente su chiavetta USB. Il docente ha inoltre a disposizione un ciclo di webinar disciplinari Insegnare matematica nel secondo grado, dedicato alla formazione e al miglioramento continuo delle competenze. Approfondimenti, tecniche e consigli per preparare al meglio le lezioni e catturare l'attenzione. Petrini festeggia nel 2022 i suoi primi 150 anni al fianco di studentesse e studenti.